benvenuti o bentornati nel canale sono con alessio ciao a tutti ormai i più lo conoscono alessio giusti fra i bri ora vi dirò fra poco un po di dosi su di lui ma insomma è superfluo ma tanto si mette link sotto in descrizione abbiamo un mini 2 e in tantissimi stanno scrivendo nei messaggi mi arrivano sotto commenti lo butterò via il primo gennaio 2024 perché non ha marcatura e oggi vi raccontiamo perché non buttate via un bel nulla e questo video spero lo possiate apprezzare ma ma come sempre prima vi chiedo un aiuto al canale un like a questo video l'iscrizione se non siete iscritti qui soprattutto ci si diverte si cerca di portare una tecnologia i droni tantissime cose ma soprattutto lo facciamo e chi mi segue sa con il sorriso sulle labbra e dunque una siglettina come sempre di b che si inizia allora come annunciato sono con alessio giusti istruttori esaminatori enac lui è del club di firenze il club di firenze i big e non è che penso di sapere che cosa ma normativa la conosco abbastanza bene ma ultimamente non mi lancio mai e chi mi segue lo potrà aver visto in video sulla normativa ma soprattutto sto iniziando a odiare i video di sensazioni e non si vola più e qui e là a volte l'ho rifatti anch'io perché mi sono arrabbiato voglio essere tranquillo oggi voglio parlare o francese ma mi avvalgo oggi di alessio perché è una figura autorevole perché io di lui no massima stima e tutto quello che mi ha detto nel tempo è stato esattamente quello che poi la normativa prevedeva e dunque oggi ho portato lui perché mi ha un po' illuminato su quella che è la situazione dal primo gennaio del 2024 per i droni che non sono marcati un esempio il DJI Mini 2 ma ci sono ovviamente tantissimi droni e lo vedremo ma prima voglio specificare questo io sono qua nel canale per divertirmi divertimento è la prima cosa in assoluto per me chi mi segue e capisce la mia filosofia lo sa bene e per questo io devo ringraziare il canale perché conosco persone come Alessio per esempio che mi arricchiscono a livello personale sulla normativa sui droni perché lui è un professionista e sa il fatto suo ma non solo io ho conosciuto esempio Manu Agostini che è un collega di piattaforma un influencer lui ovviamente è uno delle influenze più grandi a livello nazionale e mi ha invitato con lui il 14 ottobre a Sant'Ilario qui dalle mie parti farà una giornata come crescere su social network che mi ha detto big sei toscano vieni a affiancarti a me e per me cioè Alessio sono veramente grandi soddisfazioni come quando mi chiama Luca Bracali fotografo internazionale e registrerai cioè ragazzi per cui anzitutto se volete venire il 14 ve lo ripeto il 14 di ottobre in una tenuta bellissima e parleremo di crescita con i social network e vi lascio il riferimento di Manuel qua sotto Mari ci si vede lì e si stanziamo una giornata se tu vuoi venire Alessio e tornando a noi questo per farvi capire che per me il canale fa la mia statica ma volevo e ci tenevo a dirlo è veramente è veramente fondamentale che si sapesse che io qua mi diverto e ringrazio il canale per conoscere persone anche come Alessio come Manuel come Luca Bracali e quant'altro e per me questa è già una vittoria è una vittoria anche quando porto qui Alessio da me e ci spiega dal primo gennaio 2024 ora io il big è quattro minuti che parla dice Alessio fammi parlare anche me no ha ragione perché il ful che è tutto lui no però no 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 però io lascio la parola a lui perché lui ora ci spiegherà andando alla mano sul sito Asa una cosina interessante che tutti voi spero apprendiate con il sorriso sulle labbra quando l'avrete sentita allora Alessio spiegaci tutto allora Simone volevo fare una piccola premessa perché chi inizia con i droni magari spesso si trova di fronte a tantissime informazioni soprattutto sui social network un frullato come dico io di informazioni che spesso insomma lo disorienta un po' io il consiglio che do sempre è di cercare le informazioni su alle fonti alle fonti ufficiali per cui tutto quello che potrebbe essere una polemica o qualcosa che magari viene fuori secondo me ha fini diversi da un'informazione o da una discussione perché poi se andiamo effettivamente a leggere quello che scrive l'ente normatore tutta questa diciamo questa fobia o questa paura insomma della del fatto che i droni che non hanno marcatura io sto parlando naturalmente di droni che sono con un peso massimo al decollo minore di 250 in ogni caso in ogni caso io sono andato a cercare sul sito di asa perché lo vediamo cercate cercate naturalmente come dicevo prima la fonte ufficiale e scusa Alessio questa fonte la metteremo ovviamente il link sotto in descrizione sta consultando allora io sono sul sito di asa e sono in particolar modo nella sezione droni civili categoria aperta che è la categoria che spesso si usa per fare operazioni personali ludiche ma anche professionali e all'interno all'interno di questa cosa io trovo le informazioni che mi servono quindi leggo diciamo le basi di questa categoria aperta le subcategorie 1 a 2 a 3 eccetera eccetera e poi trovo naturalmente uno specchietto dove io diciamo sposto un po così almeno si riesce a vederlo meglio sì questo specchietto dove asa descrive la situazione transitoria perché come sapete fino al 31 dicembre 2023 e asa ha permesso di utilizzare anche droni che hanno determinate caratteristiche quindi non marcati in un periodo transitorio appunto come categoria open limited si chiama quindi droni che pesano da 250 grammi a 500 grammi possono volare in A1 anche senza marcature di classe fino al 31 dicembre 2023 e droni che pesano da 500 grammi fino a 2 chili in categoria A2 fino appunto al 31 dicembre 2023 poi dal 1 dicembre 2024 le operazioni in categoria open devono essere fatte a alcune condizioni la prima condizione è avere un drone marcato di classe che può essere C0 se inferiore di peso a 250 grammi C1 da 250 grammi a 900 grammi C2 che va da 900 grammi a 4 chili e sopra 4 chili droni C3 o C4 che dovrebbero essere gli aeromodelli quindi avere diciamo caratteristiche diverse dai nostri droni questo per quanto riguarda i droni marcati quelli non marcati potranno continuare a volare in operazione A3 quindi lontano da persone almeno 150 metri da persone in zone non urbane naturalmente e addirittura appunto quindi droni autocostruiti aeromodelli quelli che sono senza marcatura poi c'è in questa lista come vedete come operare i droni in categoria aperta dal primo gennaio e qui c'è una lista c'è naturalmente i droni marcati ma c'è anche droni che sono stati autocostruiti quindi droni che per ragioni varie possono essere autocostruiti o droni acquistati prima di gennaio 2024 sotto 250 grammi quindi il peso al decollo deve essere inferiore a 250 grammi in questa in questa sezione viene descritto appunto una serie di elementi allora droni come vedete che sono sotto 250 grammi acquistati prima di gennaio 2022 quindi i droni che avete oggi quello che mi sembrava aver visto a Simone è stato acquistato acquistato ormai da un po' di anni un po' di tempo fa quindi nel 2023 o nel 2022 potranno continuare a volare in A1 quindi subcategoria 1 vuol dire volare anche in ambito urbano potranno sorvolare persone non informate c'è scritto qui non lo scrivo io lo scrive ASA tanto si sta facendo vedere naturalmente le persone non informate devono essere diciamo deve essere evitato il sorvolo così casuale cioè si sorvolano ma diciamo se la cosa è strettamente necessaria non si può sorvolare assemblamenti di persone poi naturalmente non è non è obbligatorio un attestato diciamo un training ufficiale non è obbligatorio quindi si continua a operare per cui si rimane nella streva sì se volete magari vi consiglio che prendi attestata 1 a 3 che vi dà un po' di nozioni non è previsto un'età minima quindi questo è sostanzialmente dunque la situazione dei droni come questo ecco dunque poi ora io apro la sezione C0 cioè i droni sotto 250 grammi che invece avranno un bollino di classe C0 che saranno venduti in maniera obbligatoria dal primo gennaio 2024 quindi quelli che non hanno bollino non potranno essere venduti quindi acquistatene se le volete acquistare però dal primo gennaio le scorte di magazzino non so che fine faranno o le rimarcano oppure praticamente non possono essere però poi si definisce sì perché qui c'è scritto prima la vendita è prima del gennaio 2020 quindi chi ce l'ha chi ce l'ha leggendo EASA lo vediamo tutti se noi andiamo ad acquistare un DJI Mini 3 Pro che non è marcato in un negozio che ne so qualsiasi di elettronica il primo gennaio 2024 sono chiusi ma il 2 gennaio a differenza di uno che l'ha acquistato lo stesso drone allo stesso negozio il 31-12-2023 così è scritto uno è uno giusto? questo ci stai raccontando tecnicamente se l'ha acquistata a gennaio uno non marcato volate in A3 ecco perché non è marcato punto quindi questa cosa che EASA offre è la possibilità di utilizzare vecchi droni acquistati nel 2023 o prima ma dopo dal primo 2024 non c'è scuse o si acquistano marcati o se no si vola in A3 basta mentre questo questo qui di Simone volerà in A3 ma anche in A1 cioè rimarrà alle stesse condizioni in cui lo sto usando adesso perché c'è scritto che il drone in questo caso pesa se tu lo metti sui 249 grammi esatto in ogni caso è sotto 250 grammi quindi tutta questa polemica io francamente non ce la vedo comunque apriamo ora invece il C0 il C0 dice il C0 possono volare in A1 e anche in A3 uguale a questo hanno però una limitazione di quota fissata a 120 metri dal costruttore quindi mentre questi sono sbloccati quegli altri saranno bloccati e qui e qui tutti non mi compro in mini 4 però perché non mi supera 120 metri mentre qui anche questo è un argomento sentitissimo io personalmente dico va bene c'è una norma che si può arrivare a 120 sicché no ma soprattutto Simone c'è il fatto del VLOS sì perché se succede qualcosa lo perdete o vi va veramente bene o se no lo perdete davvero il drone perché poi non lo recuperate più se è lontano quindi comunque in ogni caso io sto parlando ora di quello che scrive Asa certo quello che noi diciamo a voce alta è quello che leggiamo qui lo vedete in sovraimpressione quindi non ci inventiamo nulla quelli marcati hanno chiaramente delle restrizioni perché la normativa appunto opera attraverso delle restrizioni che sono la limitazione di quota per esempio non può volare su assemblee persone gli assemblamenti persone come l'altro non può cioè può sorvolare persone non informate anche se dovrebbe essere minimizzato il tempo poi naturalmente per quanto riguarda la registrazione uguale si dice di leggere il manuale mentre prima non ci sono competenze qui invece non ci sono competenze ma si dice di leggere il manuale quindi vi introducono questo foglietto illustrativo che verrà venduto dentro alla confezione della marcatura di classe mentre prima non c'era e ci sono 16 anni minimo di obbligo mentre su questi qui non c'è questa valutazione questa cosa qui dei 16 anni quindi anche lì è qualcosa che bisognerebbe ASA ce lo spiegasse perché se la normativa è la stessa però al momento insomma questo è quello questo è quello che scrive ASA sui droni sotto 250 grammi io sto parlando non di polemiche penso Massimo al decollo siccome il drone questi qui che non sono marcati non c'era nella normativa non essendo marcati non c'era l'obbligo del manuale dove si scriveva peso massimo al decollo eccetera di fatto il peso massimo al decollo è quello che l'utilizzatore farà nel momento dell'utilizzo non quelli che sono previsti accessori ci posso mettere i paraelli che diventa 300 grammi eccetera il peso massimo al decollo in questo caso non essendo un drone C0 è relativo appunto nel momento del decollo ecco questo è quello che volevo dire mentre su quelli nuovi marcati C0 ci sarà appunto nel manuale il peso massimo al decollo che è definito dal costruttore questa è la storia dunque io non so più che dirvi noi che non dite un video lungo perché credo sia un video importante non ho 15 minuti siamo qui insieme ma credo che fosse fondamentale ascoltare un po' tutto quello che ci ha raccontato adesso ma soprattutto andatevelo a vedere perché si mette il link sotto in descrizione dunque due parole proprio siamo a 16 minuti di video li for lunghi io quando sono con lui siamo il top doppio è ovviamente 16 però qual è il punto? il punto è questo Alessio chiudiamo con una proprio una chiusura veloce se io vado a comprare un drone ora Mini 3 Pro che non ha la marcatura di classe ok a parte che non è bloccato mi volerà ma questa è un'altra cosa però dal primo cennale 2024 continua a essere un drone utilizzabile utilizzabile nello stesso modo che faccio ora e attenzione se voi andate ad acquistarvi un Mavic Mini un Mini 2 un Mini 2 SE io ho un video nel canale dove racconto di come iniziare a volare acquistando un drone usato come questo sicuramente fatevi dare la prova d'acquisto giusto che si veda che è stato acquistato prima del 31 per quello che ci ha appena detto Alessio 31 dicembre 2023 perché con questa prova d'acquisto per quello che ci hai appena fatto vedere avrete due cose la prima la parte assicurativa cioè l'assicuratore vi assicurerà con un mezzo che comunque è stato acquistato nel regime transitorio e quindi siete a posto la seconda che a livello poi ufficiale siete a utilizzare un mezzo anche se magari non è più moderno non è cioè ci sono versioni nuove di fatto comunque avrete la possibilità di utilizzarlo in A1 senza che abbia un C0 marcato sopra questo è il tutto questo lo scrive Asa noi l'abbiamo letto sul sito l'abbiamo pubblicato poi se ci sono degli errori di Asa magari è bene che vengano fuori e noi siamo pronti a rivedere tutto però io mi sono un pochino scusa Simone io mi sono immedesimato nell'utilizzatore medio anzi nell'utilizzatore che inizia che non ha tante come dire tante conoscenze sono andato alla fonte ho detto prima andate alla fonte perché lì troverete le informazioni ufficiali il resto sono magari discussioni sterili o forse portano magari a qualcuno anche dei vantaggi a livello di visualizzazione non voglio dire altro vabbè chiuso comunque chiudiamo ovviamente c'è una mosca in me da noi a cosa ci deve essere adesso io veramente e niente questo è quanto io se volete fare qualche domanda magari Alessio tieni sott'occhio questa chat sotto perché chiedo a te l'ausilio di rispondere visto che ti ho portato qua a raccontarci questa cosa noi ci si vede alla prossima ovviamente nel canale questi 19 minuti di due che starebbero via ora a raccontarvi le cose un ringraziamento speciale a Alessio che è sempre molto molto prezioso ma soprattutto competente ci si vede alla prossima tutti i riferimenti ovviamente abbiamo detto di Alessio sotto in descrizione grazie ciao ciao